Salve, sono Matteo Specchio, vengo da Manfedonia, provincia di Foggia, vengo da un locale su un porto turistico che si chiama Seychelles, più una strada di ricevimento che si chiama La Conchiglia, l'italiano è inglese, Seychelles è un sin doppio nome. Un impasto di 78 ore di maturazione con un 85% di idratazione, farina tagliata con un 95% di frumento, 4% di riso, farina di riso e 1% di soia. Condimenti, ciò che la crema con il kraut rosso, con l'aggiunta del formaggio sfamabile, poi delle patate accosta nell'acqua di polpo, bollita con l'acqua del polpo e dello sgombero a vapore, poi delle per la cipollina. La maturazione dell'impasto a temperatura controllata? Sì, a 4 gradi. Per quanto tempo? Tutte 78 ore. Tutte 78 ore. Dopodiché, almeno 8 ore di lievitazione. In uscita dopo. Questo è stato fatto con la bigola o l'impasto diretto? Diretto. Hai detto dello sgombero? Sì. Come ne hai fatto lo sgombero? A vapore a 80 gradi. Ah, a 80 gradi. E come ti è venuta l'idea di bollire le patate nel polpo, nell'acqua del polpo? Beh, è stata una cosa... Se poi non è messo il polpo sulla... No, ho fatto distinguere due gusti, tra il polpo, ovviamente fanno il polpo all'insalata, del polpo. Allora, ho unito di questi sapori, la patata, altrimenti andava a complicare tutto. E poi ho visto che è affumicato tutto. Sì, al rosmarino. Al rosmarino. Ok, grazie. Hai detto l'impasto diretto. Sì. 78 ore di lievitazione. Sì. 85% di idratazione. Sì. Che percentuale di sale hai messo nell'impasto? Sono il... O dimmelo in grammi lo stesso, eh? Sì. Il peso è pochissimo. Sono 25 grammi al litro d'acqua. C'è un... 25% lì. No. La farina sono... Più o meno possiamo dire... 25%... Un 20 grammi... Sì. Al litro d'acqua. Al litro d'acqua. Quindi vuol dire più o meno un 10 grammi. Sì. Sì. Purtroppo si devo basare sull'acqua, perché è assai acqua, la direzione alta. E quindi con il sale dobbiamo calcolare come l'acqua. Se altrimenti faccio sulla farina, mi viene più salato dopo. Ok. Mentre la proporzione del lievito, di birra credo... Sì. Sarà un 5 grammi sempre al litro d'acqua, abbiamo. 5 grammi. Quindi hai fatto l'impasto, hai fatto le tue forme... Hai messo subito in frigorifo, subito. Subito in frigorifo. Non in forme, lasciatelo così. Intero. E le forme quando le hai fatte? Dopo 78 ore. Fai le forme. E dopo le forme? 8 ore, 8 ore. Di vengono dei cuscini. Hai visto? Sì. Temperatura ambiente? Ambiente, sì. all'incerta tra i 18 e i 20 gradi. Altra domanda un po' particolare. Questa è una pizza che tu proponi in pizzeria? Sì. Ok, grazie. Sì.